L'assessore regionale Leonardo Marra si invisita a Prato per fare il punto sui progetti legati al turismo. Al Museo del Tessuto ha incontrato i rappresentanti dei comuni e delle categorie economiche per confrontarsi sull'offerta che passa dal tipo il turismo industriale a quello slow, contraddistinto dai cammini. Questo diventa anche motivo di allargamento al grande pubblico, rende trasparente il processo produttivo, ha a che vedere anche con aspetti etici, la sicurezza, l'aprirsi significa rendere, rendi contabile ciò che si fa, renderlo sociale e anche di grande interesse perché qui si fa la vera economia circolare e di conseguenza siamo nell'ambito di un'espressione di valori legati a un'esperienza. A coordinare l'incontro l'assessore comunale al turismo Gabriele Bosi. Siamo molto contenti come ambito turistico pratesi per l'opportunità di fare questa riunione ristretta con le categorie economiche di settore e con i nostri comuni per rappresentare quello che è il lavoro che stiamo facendo sul turismo e per ascoltare quella che è la programmazione che l'assessore Marra sta facendo a livello toscano e con la quale ci possiamo relazionare per fare i progetti insieme.